e benvenuti al nostro appuntamento con Resident Evil Village oggi continueremo la nostra avventura e andremo avanti scusate un attimo c'è un problema con la riservazione ecco qua allora riavvia il gioco chiedo scusa allora dovrebbe essersi ripristinato Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Resident Evil 7 salut a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Resident Evil 7 continueremo la nostra avventura andremo avanti con la nostra avventura allora bisogna andare di qua e benvenuti al nostro appuntamento con Resident Evil 7 e benvenuti al nostro appuntamento con Resident Evil 7 e benvenuti al nostro appuntamento con Resident Evil 7 oh! chi ne vedi? mi ha fatto da qua sotto poi bisogna andare di qua dai 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 Qua non c'è niente, ok. Here there is nothing. CBRadio, RadioCB. Questa è una U. Eccola qua. Ai ai ai, le cose non stanno a buono. Che ditti, io sono da Polino. E dai. No dai. Eccola qua. ok che questo mogiso who are you no Be' dai, io di reddi andare Let's go We must go up We must go on La webcam, oggi Ethan Sì, è vero Ti ho mentito Non avrei dovuto, ma Quello che posso dirti è che Se troverai questo Stanne Lontano Dimentica di avermi conosciuta No dai, non devo fare Ecco, è tutto Ci può fare bene, farsa Oh la la Ma di qua c'è qualcosa da No Poi ce ne accorgeremo dopo Va bene Adesso staremo insieme Per sempre In che senso Oh kaiju Che è successo Ehi, ehi, ehi L'anima E anche lei Se ne è andata Forse Ora ti ricordi? Sì Evelyn Ricordo Possiamo tornare A essere una famiglia? No, Ivi Non possiamo Non lo siamo Mai stati Non saremo mai Una famiglia Beh, allora non mi servi più a niente Ma io 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 Allora vediamo un po' No, qua manca tutto Ah, ho perso La radio qua We got the radio And we will Send an SOS to the world Allora vediamo qua prima Qui c'è andata Allora vediamo qua prima Qui c'è andata Il contenuto è stato portato via Vediamo qua cosa c'è Che c'è andata I have to I have to To see if there is Anything Anything Of important Here Ci dova voir Se je vais trouver Quelque chose D'important ici Sembra rotto Ok Andiamo qua Ah, questo è il pannello Dei comandi Ok, questo è chiuso Qui abbiamo detto che Abbiamo visto tutto Andiamo a vedere Allora l'ascensore Ok, quindi Entriamo nell'ascensore E' effettivamente Sento dei rumori strani I hear some strange sounds J'entends Des rumeurs Rumeurs Etranges Asi verdiculine Ohlala Allora Allora, si è venuto Dove è di qua Ah, ok Allora Allora Qui mi trovo Nella Sala macchina È giusto Ispezioniamo Magari funziona E vediamo un po' Let's take a look Eccolo dove è S2 S2 Devo scendere Ok Caggia No, smettila Evelyn Maledetti allucinazioni Eh Dove si è cacciata? La radio sta qua Quindi Se è qualcosa Questo è rimasto frizzato qua Oh, che ho trovato? Vediamo un po' se posso combinare qualcosa Oh, perfetto Allora, vediamo poi qua se c'è qualche altra cosa Qua mi pare che non c'è niente È molto importante Controllare tutto È molto importante È molto importante Per controllare tutto 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 Vediamo un po' Cerchiamo la chiave Let's try to found the key Apri la porta con l'agente corrosivo Ok Ok, quindi qui sono tornato indietro I am back Ok Vediamo qua se c'è qualcosa Polvere da sparo E con la polvere da sparo qua Ok Ok, ho capito In pratica Crea dei proiettili particolarmente potenti Con quella miscela Vediamo se c'è qualcosa qui Vediamo se c'è qualcosa qui Ok Qui però Qui è tutto bloccato Non ho nemmeno Il spugnale Ho il coltello per Cercare di spostare Allora il piano Qui deve esserci Qui deve esserci Vai via la porta Ottieni la chiave dell'armadietto Bella Dove la troviamo sta chiave? Questa mi fa comodo Molto comodo Molto comodo Molto comodo Deve esserci qualcosa Che mi sono verso Non è possibile Non è possibile Inspezione Molto comodo Molto comodo Molto comodo Molto comodo Inspezione Non è possibile Niente Oh cacchio Oh cacchio Qua c'è una boda Ah io da qui Mi sono calato da qua Mi sa Sì Quindi Ma devo scendere Piano di sotto Solo che l'arma Faccia male Non è possibile Non è possibile Non è possibile Io Great Ok Ok Puoi scendere Ok Allora qua Il cavo si è fuso Nel tutto Ne avranno uno Di riserva Ma è stato usato Per delle riparazioni Nell'infermeria 3F Prova a chiedere A dottor Waddle Mi vogliono Una sola macchina Due Ma non posso scendere Se non sistemiamo Questa cosa Ok So qui mancano I fusibili Oh Un coltello Un knife Un knife Un knife Un knife Viene 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 In guardia In guardia Fringuelaccio Un guarda Fringuelaccio Un guarda quindi il cavo si trova al terzo piano I must check the cable at the third floor stando alle informazioni più recenti sembrerebbe che Evelini sia ad alto rischio di cattura questo sembri sbaglio, l'ho già letto prima si, yet to jet ok c'è 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 ma male ai 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 ottimo allora andiamo un po' aspetta andiamo a vedere prima di qua cosa c'è let's check here ok queste sono le scale allora andiamo prima di spezionare tutto il piano e andiamo a fare una spezionare tutto il piano questo piano e andiamo a fare un po' e andiamo a fare una spezionare il piano e poi andiamo a fare una spezionare poi andiamo a fare un po' andiamo a fare un po' combinazione. Allora, gommella, ok. Deve esserci una combinazione. Allora, quella sta così. Proviamo a metterla così. Questa è testa in giù. Questa è la vaga impressione che è. Eh, ma quella combinazione qua, ma non ho capito. Oh, si è aperta. Ma questa? Ma allora già si era aperta prima. Eh sì. Ok, di combinazione è questa. La combinazione è questa qui. Identica e precisa a quell'altra parte lì. Ok. Perfetto. Controlliamo che non ci sia null'altro. Fa una leggermente schiufo, però vabbè. Qui non c'è niente. Ok, quest'area è ispezionata. Area bonificata. So, this area is clear. Quest'area era è stata inseris. E io sono passato. E io sono passato già per questa. Allora. Controlliamo le quadro. Oh. Caccio. Qui è? polvere da sparo ma fatta cacassotta allora utilizziamo questo let's try guardiamoci bene attorno let's check oh ok this is the key for taking the the weapon so now I'll go on the third stair on the third floor allora quando j'ai trovato la clé dell'armoire per prendere l'arma da la chambre di capitan non c'è il vestigio della ponte e c'è una taglia buona dove ci troviamo no qua questa no e qua oh c'è una bambolaina bambaina allora qui non si va da nessuna parte allora c'era una avevo visto una tromba di scale prima mi pare da quest'altra parte qua ovviamente ci vogliono i fusibili i fusibili ma qui ho fatto un bel salto là qui ci sono già passati io quasi quasi salvo allora vediamo un po' come possiamo arrivare al terzo piano qua ok allora torniamo al terzo piano e andiamo a prendere l'arma nella stanza del capitano now i i'll take the the weapon in the capitan room attack 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 Attacca, 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 attacca. La miglior difesa è l'attacco. La miglior difesa è l'attacco. Quindi devi sempre attaccare il tuo enemy. Non restare in modo difesa. Ok, la miglior difesa è l'attacco. Se poco sa, che il fu attacca l'ennemi. Ah bon, che il fu attacca. Ho la vaga impressione che... Non è proprio qui che dovevo venire. Ma ispezioniamo questo piano, visto che ci troviamo. Qua non c'è niente. Dov'è? Vieni, pesiolino, vieni. Vieni, pesiolino, vieni. Ho la vado. Samendo? Vieni, samendo, vieni. Oh, hai mangiato white hand, eh? Vieni, pesiolino. Vieni, pesiolino. in guaiatelle ah giusto ci ho pensato boom meno quello che ti va indicato di questa ok l'esplorato 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 il sole fall into my man perfetto abbiamo però polvere da sparo si può fare ok abbiamo anche preparato di proiettili potenziati ora abbiamo polvere da sparo ma ora abbiamo creato diminuzione con l'esplorato con l'esplorato offensivo allora ok questa non è scala ispezioniamo il quarto piano vediamo che cosa c'è ah io sono venuto da qua infatti su io ero la quale mi ricordo che io vado questa l'esplorato l'ho sentito foro the behind se lo che non mi ricordano sta sta inseru lo capitano pare che sta all'altra parte no 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 non è qua qui ci sono passato prima vediamo un attimo una cosa la paranza oggi allora quarto piano che vista ponte questo no poi sicurezza alloggi alloggi allora dove qui sicurezza e siamo al secondo piano quindi dobbiamo raggiungere il terzo piano quindi dobbiamo raggiungere il terzo piano e già sento strani rumori qua qui mi sa che siamo al quarto piano però eh allora forse qua mi fa riportare allora la stanza del capitano dovrebbe essere è infatti sì però pesiolino il mio tesoro il mio tesoro il mio tesoro diciamo che siamo eccolo là a quarto piano l'abbiamo 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 il nostro l'abbiamo appreggito la quindi abbiamo apprezzato il lisbo manca il fusibile manca un cavo ok però adesso manca il fusibile quindi rispezioniamo tutto let's check let's save questo è chiuso rispezioniamo tutti i piani i will try to check all the stairs fammi dire un attimo la cosa allora area ricreativa ottimo ho trovato cose molto buone i found find good things andiamo un po' pare che non c'è più niente qua ok poi andiamo a dispezionare l'altro piano questo qui ovviamente me lo sono fatto di corsa guardate voi è poco mo' questa in effetti qua ci sono passato ma per sicurezza riapriamo tutto però questo ovviamente mi richiude le porte quindi devo trovare un fusibile i must find i must find la fuse quasi ho passato qua pure ma appena sentiamo rumore posso avere torno di notte verso mezzo sentite una bambina che rideva o forse era solo la mia immaginazione mi sono svegliato alle 19.30 c'era una certa confusione nei corridoi un ingegnere di bordo mi ha riferito che stava succedendo qualcosa ai livelli inferiori forse una rivolta ero bianco in faccia mi ha detto poi che sarebbe andato a controllare non è mai più ritornato saranno state le 19.50 quando ho sentito urlare sono corsi in lavanderia e ho visto Clark venire divorato ok abbiamo trovato allora questo piano qui mi sembra di averlo ispezionato tutto credo di sì vediamo un po' qui sotto se c'è una cosa ok sei rotto ok allora bisogna risalire grazie che fai allora dov'è la scala dovrebbe essere qui, la scala dovrebbe essere qui, no, non è qui alloggi, ok le scale stanno di qua ci sono due rispezioniamo di nuovo mi pare che non mi fa entrare ok, allora vediamo un po' se ci fa trovare il cavo diffusibile vediamo un po' se ci fa trovare il cavo diffusibile allora se non ricordo male avevo trovato il cavo al quarto piano dove c'era un macchinario non so, qualcosa collegato al muro però io a me manca il fusibile quindi tocca vedere un po' dove poterlo recuperare il fusibile partiamo da qua ispezioniamo tutto il piano qui sprecato ricontrolliamo let's check again se non ricordo male se non ricordo male era dall'altra parte che infatti ho qui sono bloccato sono rimasto bloccato qua vediamo vediamo un po' vediamo un po' mi sa che il piano è stato ispezionato per intero ok andiamo al piano di sotto e ricontrolliamo tutto ok ricontrolliamo tutto con attenzione perché non mi fai entrare vediamo vediamo se c'è un altro modo per entrare in infermeria in infermeria ah ma in effetti mi sa che sono entrati in infermeria prima credo no completamente bloccato allora in infermeria ho trovato il cavo qui il cavo qui i due cavi lo troverete qui qui sala di controllo sala di controllo la nostra sala di controllo mi sembra su questo piano o c'è scritto condotto c'è la sov' è spiegata qua ecco ok andiamo un po' se per caso tra le piante casettini gialli attenzione brecco a canale brecco la radio fuori uso e praticamente siamo nella cacchina nel popolo ma per salire a quarto piano ovviamente devo prendere l'ascensore ma io la impressione debba scendere l'altro che salire qua perché i piani inferiori c'è più probabilità come dice manca un fusibile cazzettini gialli cazzettini blu che volano nel cielo e certe volte cadono giù vediamo un po' ottimo qua non c'è niente salviamo 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 torniamo Eccolo qua, ok, adesso cerchiamo di andarcene perché, no no, proprio, ho uno strano presentimento. Dov'è l'ascensore? Oh, yes, a Pc3MS, possibile. Cazzettini gialli, cazzettini blu. Come si, signora, carciolo? Ma che devo fare? Vai! A livello più basso e salva Ethan, ok. I must go to the ground level and see you. Lui ti aspetta? Ai ai ai, brutta sensazione. Allora, non so perché. Nooo, che fatto. 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 Ok. Oh, la la. Ok. 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 oh mamma mamma mia mamma mia io nel dubbio ne piazza una qua oh cacchio mi sono completamente dimenticato pesiolino vieni ho mangiato pesante lo so grazie è sopravvissuto è diventata di pietra andiamo a dispezionare com'è che si sale qua? ma allora qua non si può salire deve esserci una porta qua io nel dubbio ho trovato una moneta qua aspetta però prima che non siamo qua andano nemmeno bisogno forse bimba fammi vedere bimba qua che ci sta va bene e dai vero mettete se no tu faccia una cosa per me che cosa etan e mo? etan etan che vuoi dire? non sono un maniaco e non lo sono nemmeno margherito no non sei un maniaco sei solo pazzo quella Evelyn è quella è quella la sua che cosa diavolo è? cosa vi ha fatto? ci ha infettati con il suo dom è così che lo chiama l'ho trovata tra i rottami di ronave nel bayou poi poi tutto è cambiato ti infetta e controlla le tue azioni no? non proprio figliolo lei penetra dentro la tua mente nella tua anima non puoi oppurti lei diventa una parte di te e non puoi più resistere al bisogno di ti trasformi in qualcosa di diverso come con me mi ha contattato perché spinta da Evelyn ascoltami quella ragazzina vuole una famiglia e lei la chiave capito? tu devi trovarla e fermarla etan dimmi devi liberarci vabbè vabbò ritana ecco etan stai lontano da lui ok? perchè? noi non ti amo non è vero io posso far si che ti amo non fargli del male te l'ho detto non ho intenzione di fargli del male non osare altrimenti? non sei mia mamma ricorda mia but aspetta mia ma come? mannaggia tutto questo è niente ok l'urida mucciosa infame dove cazzo sei non ti dicono le parolacce è vero che sta arrabbiato però ok bisogna per forza passare vertigo è tutto colpa tua per qui ma non mi fa passare nemmeno se mi abbasso no ecco qua ok questo è scritto è colpa tua alle scialuppe la 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 cosa è questo no l'alba Sappiamo qui la telefoni tv nella scatola del mondo io tu per cui l'acqua le cicale 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 un milione di sale ok ci sono rimasti secchi ok la radio fortunatamente funziona un elicottero ci osservano da un elicottero ok si chiude X si chiude X qui bravo 1 mi ricevi via alfa 1 fate rapporto trovato niente nella proprietà dei Baker risultano zero sopravvissuti ripeto zero sopravvissuti riscontrati segni di lotta negativo tuttavia abbiamo recuperato diversi messaggi del figlio Lucas a persone non identificate lei immaginerà già di chi si tratta addio vacanze dai rapporti risulta nelle miniere abbandonate al sud mi sta recando lì ricevuto la raggiungeremo a queste coordinate se trovate Evelyn sparate per uccidere ripeto sparate per uccidere l'accaduto l'intensità A me nel momento serve un'arma, ma forse non è adatta. Poi altro ci abbiamo, soluzione medica. Il coltello torna sempre utile. Dobbiamo prendere anche il fucile con le cartucce. Allora, per il momento la nostra live termina qui. Vi ringrazio di essere stati qui con me in live. Se vi è piaciuto fatemelo sapere qui su Twitch o su YouTube. Il video sarà disponibile venerdì. Grazie mille per essere qui. Ho spero che vi divertirà il video. Grazie mille per aver guardato il video. E se vi è piaciuto, io vi invito a lasciare un messaggio. Grazie a tutti per essere stati in live. Grazie a tutti. E ci vediamo al prossimo appuntamento con Resident Evil 7 Biohazard. Ciao a tutti. Grazie a tutti.